Allora siamo con Italo e Gabriele Bagliana, buongiorno. Buongiorno. Allora questo è un banco un po' speciale. Sì, questo è un banco in memoria di mio papà che purtroppo qualche mese fa ci ha lasciato, però aveva fatto in tempo a preparare ancora della roba, non ce n'è tanti in effetti perché poi avrebbe proseguito nel mese di dicembre e gennaio. Però siamo qua in suo onore, insomma pensiamo di fargli un favore, pensiamo di fargli un piacere e stiamo valutando se è l'ultima o no, cioè nel senso se magari proseguire noi con questa tradizione, insomma abbiamo un anno di tempo per pensarci. Da quanti anni papà partecipava alla fiera? Questa è la quarantesima, 40 anni, la 74-75, adesso con precisione mi sfugge, però una quarantina d'anni. Una tradizione che ti piacerebbe continuare? Diciamo che ci piacerebbe portare avanti questa tradizione perché era innanzitutto la passione del nonno, seconda cosa ormai è come se fosse anche una tradizione nostra di famiglia perché ovviamente quando si poteva si veniva sempre a aiutare qui il nonno alla fiera, a vendere, così ci si dava un po' il cambio anche per scaldarci e dopo 40 anni lasciar perdere un po' tutto ci dispiace, ecco. Sì, si dispiace soprattutto per nonno che non c'è più. Esattamente, sì sì sì, senza dubbio a lui farebbe un gran piacere, tante volte mentre eravamo qui alla fiera mi diceva, allora Gabriele, quando è che ti insegno, dimmi che ti lascio gli attrezzi, il laboratorio, dai mettiti sotto che qui bisogna continuare. A me fino ad oggi non è mai scattata questa passione barra amore per gli oggetti in legno. Chissà che magari con l'avanzare del tempo e la mancanza del nonno non scocchi la scintilla. Noi possiamo dire che è molto bella la scelta che avete fatto e vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo e per il memoria soprattutto del tuo papà e del tuo nonno. Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie mille.